Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video! Io sono Aurora e oggi stiamo su Minecraft! Andiamo! Guardate che bella casa! Ho fatto tante cose, scusate se ve l'ho messo in pausa! Ma questa è un'altra bellissima casa! Oh ma che bella! Si può salire? No, non ci credo! Qui mi hanno invitato degli amici a provare... E allora si lanciano degli amici... Non è che è tanto alto eh! Devo dirlo... Quello è l'unico posto più alto, ve lo faccio vedere! Aspettate ve lo segno, è questo! Sì... L'unico... L'unico ragazzi... L'unico... Ahia... L'unico... Più alto del mondo! Ecco il mio amico, ma come cavolo sei salito? Vabbè... Ciao ragazzi! Sono qui? Mi vedete? Girati! Sì... Non mi si vede la faccia... Ehi... Non si vede la faccia ragazzi! Sì... Vabbè... Che comunque è... Io sono in quest outfit! Vabbè... Ok... Ciao! Ciao amici! Scusate ragazzi! Mi sono cambiato di po' la stazione... Scusate ragazzi! Scusate ragazzi! Scusate ragazzi! Scusate ragazzi! Ma non vuoi portartela! Porta! Ma non ha senso... Sono due porte però vabbè... andiamo un po' in mare ciao ciao cavallo ciao 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 povera mi fa pure bella ho piossato ho fatto dei blocchi che sono i blocchi fino al cielo dopo tutto il massimo arrivo all'esino del spazio da una bella non mi faulkri pezzaj 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 bu mi faccio vedere la mia casa nei dettagli guardate qui ho piangato dei fiori guardate questo è solo di dentro ma state tranquilli perché ancora si deve costruire guardate ah no perché ho piazzato questo coso qui vabbè tagliamo le scale questa è un'altra parte è un'altra strada noi dobbiamo arrivare fino là su però vabbè poi andiamo nell'altra scala e sono bloccato no come ho fatto è lì ragazzi cosa è che qui succede però vabbè siamo anche qui e anche qui ciao ah non voglio cadere ok forse è meglio se mi metto così bene ok ui ui saltiamo un po e uuana dai voglio usciare vuova va 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 poveri fiori non ci struiti però vabbè lo sapete ragazzi mmm questa riparola però sapete che ho costruito tutto io con le mie manine qua ho questo villaggio che vedete che fine non c'è scritto come stava piccolo cancello scusate la mia serie da gaming è davvero un po' complicata da usare qualche volta lo faremo sul computer ma però non posso qualche volta giocheremo anche al roblox roblox ma che è questa cosa ecco come l'hanno saliti ma che è stato un po' qui no 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 però va no 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 però vi assicuro vi giuro che la prossima volta lo faremo con il computer per esempio non sono così vi lascio il link qui sotto in descrizione del gioco bello vi faccio vedere qui allora questa è la torre questa di qua e vabbè se ci può salire è me ho costruito tutto io con le mie manine manine, inne, inne vabbè chissà come si fa volare vediamo set it quindi si può fare ora ah no capito basta no dai all'è? 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 Non è un'ottocasta! Non è un'ottocasta! E' un'ottocasta! E' un'ottocasta! E' un'ottocasta! Oh! Alleluia! E' un'ottocasta! Uffa! Mi guarda mi vedete per me con jocci! Però vabbè! Uh! Ecco! Il teatro! Il teatro! Non vi dico come si chiama! Perchè... Per me scrivete sotto i commenti! Troppe cose! Ciao cavallino! Ti amo cavallo! Vabbè! Questo è il teatro! Qui si cambiano! Quelli che devono fare il teatro! Però non voglio salire in questo momento! Ecco perché! No! Deve eliminare! Oh! Deve qui! Le pastore si cambiano! Si cambiano! Si cambiano! Ciao! Possiamo fare il spettacolo! Well.. Bah! Andiamo! Allora, con le gambe con la vostra canzone, le bolle, scrivetelo. Ok. Toggetevi. Ok. Sto per certo che questa casa è bruttissima. Volete la prova? Lo faccio a caso. No. Sono entrata nel ristorante. Bellissimo. Allora, io vorrei un consiglio da Lion. Come fare a registrare sul computer? Non lo so veramente. È un consiglio da Lion. Scusate, un attimo devo mettere in pausa. Scusate ragazzi. Comunque, oggi il video si conclude qui. Ci vedremo domani con un'altra nuovissima avventura. Ciao. Ciao. Ciao.